Ad un paio di mesi dalla conclusione dell'anno scolastico, gli istituti pesaresi fanno già i conti con l'annata 2022-2023. Iscrizioni completate e popolazione scolastica inquadrata in quello che si auspica sia il primo vero anno post-pandemia, ovvero senza strascichi di quarantene o didattica a distanza. Nelle superiori pesaresi allora si analizzano i numeri di una demografia scolastica che conferma il gradimento dei licei, che in gran parte dei casi continuano a crescere e talvolta anche con impennati inattese. Devo dire che è stato un boom, nel senso che veramente abbiamo avuto circa 240 iscritti, quindi per noi ecco proprio la testimonianza di una scuola che opera bene, chiaramente ce la mette tutta. Ecco, questo è il messaggio che vogliamo mandare. Il liceo artistico Mengaroni ce la mette tutta, il corpo docente ce la mette tutta, ma tutto il personale scolastico. Il lavorare anche con il territorio, il sensibilizzarci, il far capire anche alla città, ma anche fuori dalla nostra città, che cosa questo liceo fa in maniera molto semplice, umile, probabilmente ecco ci ha fatto apprezzare e quindi non ci aspettavamo questo boom di iscrizioni che veramente rispetto agli anni precedenti è stato eccezionale. Quindi 240 iscritti, per noi quindi solo nove prime, future. E poi ci sono scuole che paradossalmente crescono con parecchie preoccupazioni. Devo dire purtroppo sì, dico purtroppo perché da una parte sono assolutamente contento che sia una scuola scelta dal territorio, dall'altra sono un attimo preoccupato perché abbiamo carenza di aule, carenza di posti da dedicare alla didattica, quindi adesso ci interfacciamo con la provincia nei prossimi giorni e troveremo le soluzioni, speriamo. Va da sé che al liceo Marconi la novità delle aule container allestite in tempo di pandemia sono destinate a diventare una struttura permanente. Beh, quelle non solo rischiano di diventare permanente, rischiano di diventare il doppio, perché sappiamo per certo che esistono altri container nella provincia e che forse dovranno migrare verso questi lidi. Non crescono solo i licei, ma anche determinati istituti tecnici e economici come il Bravante Ginga. Abbiamo avuto un aumento rispetto ai ragazzi dell'anno precedente, comunque escono 138 ragazzi, ne entrano 190, siamo riusciti a finalmente istituire una terza sezione del tecnologico e questo ci rende molto orgogliosi. Tra l'altro una scuola a cui viene richiesto continuamente l'elenco di diplomati, sia per la parte tecnologica che per la parte economica e a volte non siamo in grado di produrre questi elenchi di diplomati, perché comunque non abbiamo una platea grandissima di fruitori della nostra azione educativa, della nostra scuola. Quindi comunque la scelta di un tecnico in questo momento offre concrete possibilità di lavoro e forse questo le famiglie lo stanno comprendendo e in parallelo offre anche una buona preparazione, una solida preparazione che consente ai ragazzi poi di affrontare anche la carriera universitaria a seconda di quelle che saranno poi le loro inclinazioni e le loro scelte. Iscrizioni in ripresa anche al Liceo Mamiani. Noi l'anno scorso abbiamo avuto una piccola flessione, adesso il numero di iscrizioni è ripreso a salire, sicuramente abbiamo le stesse classi dello scorso anno, speriamo di averne anche di più. Anche il Mamiani convive col problema spazi, ma spera che sia l'anno buono per il completamento della riqualificazione del Morselli. Gli spazi, utilizzando lo spazio della sede del mare, le cose sono andate abbastanza bene. Il problema esiste sempre perché al campus ormai tutti gli spazi sono utilizzati come aule di fatto e quindi viene un po' a mancare a volte l'aspetto laboratoriale. Ci stiamo adattati in questi anni alla situazione, aspettiamo anche con ansia che ci venga restituito il Morselli, la provincia ci sta lavorando, ci sono buone prospettive e quindi con quello dobbiamo risolvere molti dei nostri problemi.